Ciao ragazzi, sono Alessandra e oggi voglio presentarvi un prodotto davvero molto economico. Questo prodotto è stato creato dall'Axiomi, che è una casa cinese fondata nel 2010. I prodotti dell'Axiomi sono ottimi sia nella qualità che nell'estetica. Questo è un ripetitore Wi-Fi, si apre da qui, questo è il tappo, voi potete collegarlo sia al computer e sia al caricabatterie, comunque dove volete, ed è dotato dalla chiavetta USB, vedete? È fatto così. Una volta inserito il nostro ripetitore, come ho fatto io in questo caso, bisogna risettarlo. Come si fa per risettarlo? È molto semplice, basta usare questo, o un ago, uno spillo, qualsiasi oggetto puntito, bisogna inserire l'oggetto in questo buchino qua, finché non diventa arancione. E poi riparto a lampeggiare. Per poter memorizzare il nostro ripetitore alla rete, bisogna scaricare questa applicazione qua, che io ho già scaricato. È questa qui. E potete trovarla su tutti i vostri store, sia per Android che per iOS. Adesso avrò l'applicazione. In questo caso è già aperta, come ho già detto prima. Vedete, io ho già l'oggetto in questione selezionato, che è questo qui. Voi, per ottenere questa icona, basta che cliccate su questo più, e automaticamente vi inserirà l'icona. Una volta inserita l'icona, dovete semplicemente cliccare su essa, così, in questo modo. Adesso bisogna aspettare, ecco. Allora ragazzi, una volta fatto ciò, bisogna semplicemente inserire la password del Wi-Fi che abbiamo in casa, e poi automaticamente duplicherà il nostro Wi-Fi. Ragazzi, vi assicuro che è molto molto semplice da fare. Allora ragazzi, se vi è piaciuto questo video, mettete un like, e soprattutto iscrivetevi su questo canale, per non perdervi i prossimi articoli, tra cui parleremo della bicicletta elettrica dell'Arsiomi. Grazie. Grazie. Grazie.